Siamo nel pieno dei festeggiamenti per il centenario della nascita di Carol Voitila, San Giovanni Paolo II, un Papa che ha cambiato la storia e con un'eredità ritornata oggi di grande attualità. Domenica prossima, speciale su San Giovanni Paolo II, su Rai 2, sulla Via di Damasco. Lui era un profeta, è profetico nel vedere quello che sarebbe successo a distanza di dieci anni, per cui chi mai avrebbe immaginato il crollo del muro? L'impatto che lui dava era quello di un testimone forte, grande, autorevole e quindi è chiaro che la sua testimonianza anche di vita di fede non poteva non trasferirsi a chi aveva la grazia di frequentarlo.